Grazie Presidente, Presidente Draghi, Ministri, Noi e Voi colleghi. Ho ascoltato con attenzione il suo intervento, ma oggi dobbiamo anche certificare che la situazione sanitaria e economica è la tra peggiori a livello europeo e anche mondiale se la riportiamo alla popolazione italiana. 120.000 decessi da Covid, per molti mesi un sistema sanitario al collasso, dove sono emesse con evidenza le differenze territoriali e i gravi errori del passato che hanno cancellato la sanità territoriale. E mi passi la battuta, forse perché qualcuno la considerava una spesa pubblica improduttiva, forse. Dal punto di vista economico, Signor Presidente, è ancora peggio. Un calo del prodotto interno lordo nel 2020 dell'8,9%, che stenta a ripartire anche nel 2021. Meno 400 miliardi il volume d'affari delle imprese lo scorso anno, 400 miliardi. Un milione di posti di lavoro in meno l'anno scorso e quest'anno, quando scalterà lo sblocco dei licenziamenti, è previsto un ulteriore milione di lavoratori che perderanno il posto di lavoro. Le persone più colpite sono quelle più fragili, donne e giovani, come ha ricordato lei prima, Presidente, con un tasso di occupazione femminile calato al 53%, contro una media europea del 67%. Nuove i poveri, Signor Presidente, 5 milioni di italiani che sono sotto la soglia di povertà, con gravi disuguaglianze tra le varie aree del Paese. Presidente, prima considerazione sul nuovo PNRR. Ha senso decidere ora, con questa grave situazione sociale, la cancellazione di quota 100? Perché non pensare di introdurre una maggiore flessibilità in uscita al mercato del lavoro, dando spazio a giovani e garantendo almeno a chi ha lavorato e versato 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età la cui escienza, fornendo uno strumento alle nostre aziende, Signor Presidente, per assumere e salvaguardare il mercato del lavoro. Certo, l'ambizioso Piano Nazionale di Dipesa e Resilienza prevede un corposo e organico pacchetto di investimenti, riforme, modernizzazione della pubblica amministrazione, rafforzare il sistema produttivo. Obiettivo ambizioso, grazie al suo intervento, Presidente Gravi, e il parere favorevole ovviamente dell'Unione Europea, ma solo dopo aver assicurato che tre temi non secondari saranno affrontati, che sono la riforma della pubblica amministrazione e la giustizia del fisco. Nella pubblica amministrazione l'obiettivo di riforma passa anche attraverso il miglioramento della capacità amministrativa a livello centrale e locale, rafforzando i processi di selezione, magari meritocratici, Signor Presidente, io so che è un'utopia questo, e su incentivi legati alla produttività anche del personale della pubblica amministrazione, sburocratizzando, semplificando e digitalizzando i servizi del cittadino e delle imprese. Signor Presidente, la burocrazia in Italia costa le famiglie e le nostre aziende, secondo uno studio della CGA di Mestre, 53 miliardi all'anno, un paio di manovre di bilancio antepandemia. Qui l'azione del Governo deve essere inflessibile, tagliare i costi e tempi della macchina burocratica, introdurre costi standard per gli enti locali e i ministeri, guardare alla responsabilizzazione della classe politica e amministrativa, dal centro alla periferia, attuando appieno il coma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, che è l'autonomia differenziata. Non è un male questo, l'autonomia differenziata, è un bene per la pubblica amministrazione. Altro nodo che l'Europa ci chiede urgentemente di affrontare, e noi della Lega siamo perfettamente d'accordo, è la riforma della giustizia civile, penale e tributaria. Affrontare i nodi strutturali, rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari, semplificare il rito processuale, in primo grado in appello, ridurre il contenzioso tributario, i tempi della sua definizione, attraverso strumenti deflattivi del contenzioso, come abbiamo fortemente voluto nel 2018 con la pace fiscale, affrontando l'annoso problema dei mille miliardi di magazzino fiscale, sapendo fin d'ora che buona parte di esso è diventato inesigibile e che il 50% del contenzioso finisce in Cassazione. Così in materia penale, riformando le indagini preliminari, ampliando il ricorso a riti alternativi, definendo i termini di durata dei processi, i tempi di tutti i processi, semplificare la legislazione, testi unici e cancellazione di norme e regolamenti che ostacolano ogni giorno la vita dei cittadini e delle imprese. La riforma degli appalti pubblici della valutazione di impatto ambientale, anche questo ci ha chiesto l'Europa, con ritardi inconcepibili che portano la media di realizzazione tutta italiana per un'opera pubblica di 4,4 anni. È un codice che è l'ostacolo alla concorrenza, che ha facilitato infiltrazioni mafiose ed episodi corruttivi. Allora, se non funziona, va cancellato, signor Presidente. Prendo esempio da quello europeo, dal modello Genova, come è stato fatto dal suo Governo solo recentemente, con la nomina di nuovi commissari per le opere strategiche. Il fisco alta riforma non più prorogabile. Leggiamo che nel PNRR si affronterà con una legge delega che verrà approvata entro il 31 luglio, dalle risultanze dell'indagine conoscitiva della Commissione e delle Commissioni finanze. Un'indagine interessante, signor Presidente, sì, ma che non ha sciolto alcun nodo. Dove emergono contraddizioni e visioni antitetiche del progetto di riforma del fisco? Tratterà solo l'IRPEF? Cancellerà il regime forfettario, la flat tax sulle imprese, che ha portato una reale semplificazione degli adempimenti e abbassato la tassazione sulle piccole imprese. L'aliquota per questo regime speciale passerà al 23%, considerando che già il 75% dei contribuenti paga un'aliquota inferiore al 15%. Questa è la realtà. Verrà studiata una semplificazione delle basi imponibili degli adempimenti? Più di 800 sulle leggi tributarie, centinaia di adempimenti fiscali contributivi. Si può continuare così? Verrà affrontata la cancellazione dell'IRAP, la tassa sulle perdite? Unico caso al mondo. Verranno riordinate le deduzioni di trazioni o sarà solamente una tax expeditor? Aumenterà la tassazione sugli immobili, come ho spiegato da alcune forze di maggioranza, con la revisione delle rizzi catastali e nuovi patrimoniali, dimenticando che l'Imu preleva dalle tasche dei cittadini già 20 miliardi. La riforma dell'IRPEF, te racconto anche dell'imposta, non è più progressiva e non rispetta l'articolo 53 della Costituzione, visto che dai 28 ai 55 mila euro l'aumento medio è di ben 11 punti percentuali. Si studierà una reale no tax area per tutti i contribuenti senza distinzioni tra lavoratori autonomi, pensioni e lavoratori dipendenti. Le risorse, 221,5 miliardi di euro complessivi, 30 del fondo complementare, 191 miliardi di euro da impiegare nel periodo 21-26 e dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzione forto perduto e 122 prestiti. Allora qui, altro tema che le poniamo, signor Presidente, perché vincolarci ai solo prestiti europei senza lasciare aperta la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari nazionali, se maggiormente vantaggiosi e meno onerosi? Come abbiamo osservato durante l'audizione del Ministro dell'Economia Franco, è fatto di inserire nella risoluzione al DEF, approvato la settimana scorsa alla Camera. Investimenti. La nuova spesa per nuovi investimenti aggiuntivi sarà di 40 miliardi, tutto rimanente per i piani preesistenti. Ma con un ritardo colossale da colmare non sarebbe stato utile, visto i tassi di mercato che sono quasi a zero, spingere ed aggiungere investimenti aggiuntivi utili alla ripresa? Ha senso, signor Presidente, rinunciare in partenza a 88 miliardi di investimenti supplementari che possono essere un volano importante per la crescce e lo sviluppo, visto la sostenibilità del debito. Forse non siamo sicuri di poterli spendere. Forse è proprio questo un altro tema molto importante, la governance. Quale sarà la governance, signor Presidente? La governance delle regioni e degli enti locali? Il Governo stima che gli investimenti previsti nel piano avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche. Nel 2026 il prodotto interno lodo sarà di 3 punti percentuali, più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione sarà maggiore di quasi 3 punti percentuali. Perché allora non spingersi ancora di più? Per esempio con il super bonus 110%. L'enorme ritardo con cui i lavoratori chiedono una proroga della scadenza del bonus di ristrutturazione del 2023. Bene, la promessa di inserirla nella legge di bilancio del 2022 non è sufficiente. Ma dobbiamo essere consci che questa misura può attivare l'utilizzo di risorse private per la ripartenza. Un volano di investimenti in un settore primario come quello dell'edilizia, con un patrimonio di 13,7 milioni di immobili che sono energivoli, si capisce come l'impatto del super bonus esteso non solo ai privati potrebbe avere un riscontro complessivo di ben 500 miliardi sul PIL. Quindi il volano in termini di investimenti e di crescita sarebbe molto superiore al costo dell'incentivo. Signor Presidente, abbiamo una grande occasione per rilanciare la competitività del nostro Paese ed incentivare gli investimenti, senza dimenticare il contesto demografico della bassissima natalità, 1,29 figli per donna contro la media europea di 1,56, magari attraverso nuovi esili mido. Qui sono scarsi, Presidente, gli investimenti e la piena attuazione dell'assegno unico per i figli e maggior tutela per le madri. Concludendo, mi passo una breve considerazione e ringraziandola per il grande impegno e il lavoro fatto e la grande svolta. Prima si apre e prima si riparte. Si sciolgano con urgenza i nodi sul tema del coprifuoco, con adeguati protocolli, che tra l'altro già esistono. Prima si riapre del tutto, minore sarà l'impatto su questa grave crisi economica. Grazie.